buona giornata buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è sabato 20 gennaio 2024 una giornata molto molto particolare soprattutto per i pesaresi ma io direi anche per tutta la provincia perché oggi viene nella nostra provincia viene a pesaro il presidente della repubblica mattarella iniziano alla grande tutti gli avvenimenti per pesaro capitale nazionale della cultura 2024 ma di questo parleremo ampiamente nella nostra rassegna stampa e ora passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa di due santi san sebastiano e fabiano 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 lo si conosce di meno rispetto a san sebastiano fabiano divenne papa siamo nel terzo secolo in circostanze miracolose cadde poi martire per la sua fede come tanti altri cristiani del tempo più noto ovviamente san sebastiano il cui ritratto campeggia su tanti tanti quadri su tanti dipinti dal diciamo al 1400 in poi ebbene era capitano dei pretoriani veniva da narbonne quindi era nato in francia convertitosi al cristianesimo fu condannato dopo essere stato scoperto essere ucciso dagli arcieri un supplizio però a cui sebastiano sopravvisse però i persecutori infierirono ancora su di lui e lo uccisero a colpi di clava e quindi fu martirizzato sono note a roma le catacombe di san sebastiano insomma un santo molto molto noto il cui culto è molto diffuso ricordiamo anche che il santo protettore dei vigili urbani e quindi oggi la polizia locale festeggia la sua festa vediamo ora le previsioni del tempo diciamo subito che oggi la temperatura si è notevolmente abbassata raggiungendo i 5 gradi della minima e 7 della massima comunque fa freddo e sembra che anche sulle nostre montagne appaia la neve ad una certa altezza comunque sulla costa i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino tesi da nord e nord est al pomeriggio tesi da nord e nord est lo stesso il mare è molto mosso il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.58 questo per quanto riguarda l'inizio della nostra rassegna stampa ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano ebbene sulla pagina di Fano si parla di un convegno che si è svolto l'altra sera a Palazzo Martinozzi nella sala Peddinotti dove l'associazione 27 agosto ha organizzato un convegno sul spostamento della ferrovia un progetto interessante ovviamente è un progetto molto bello molto atteso che però dovrà percorrere un iter burocratico piuttosto complesso siamo solo all'inizio al momento sono stati assegnati 5 miliardi una cifra ingente ma non è sufficiente per completare l'opera quindi il governo dovrà ancora metterci dei soldi e intanto però urge fare subito il progetto in modo poi per definire in modo da definire lo sforzo finanziario che sarà necessario compiere ebbene un convegno importante a cui sono intervenuti entrambi i sindaci di Pesaro e di Fano Massimo Seri e Matteo Ricci Matteo Ricci poi impegnato molto nelle ultime fasi della organizzazione della visita di Mattarella non ha voluto comunque rinunciare a questo appuntamento entrambi hanno convenuto delle opportunità sulle opportunità che offre questo progetto che potrà così offrire un'evoluzione diciamo della mobilità compatibile quella dolce nella nostra città e nella città di Pesaro è importante il progetto che è stato accettato anche dalle ferrovie dello Stato in quanto non si discosta molto dalla costa pur lasciando libera tutto il litorale perché segue un po' la direttiva dell'autostrada e quindi anche i viaggiatori potranno raggiungere facilmente le due stazioni che verranno spostate leggermente verso l'entroterra presentato il progetto al momento finanziato con 1,8 miliardi ma non basteranno eppure è un'occasione storica lasciamo questo argomento a decantare perché poi di questo se ne parlerà anche molto in futuro e passiamo ad appuntamenti più vicini a noi sono stati presentati ieri nella sala della concordia del palazzo municipale di Fano i due appuntamenti tradizionali del mese di gennaio-febbraio ebbene il prossimo 23 gennaio ricorre il giorno della memoria il giorno della memoria che rievoca la tragedia della Shoah anche a Fano viene così celebrato viene ricordato con una seduta monografica del Consiglio Comunale straordinaria dunque che si terrà alle ore 17.30 nella sala ipogea della Mediateca Montanari e sarà presente anche Marta Baiardi ricercatrice dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea studiosa in modo particolare della Shoah parlerà Marta Baiardi in modo particolare delle donne delle donne deportate delle donne umiliate se viziate coloro che sono state uccise nei campi di sterminio l'altro appuntamento invece è fissato al 9 febbraio si tratta della giornata del ricordo la giornata che accenta la sua attenzione su quanto accaduto in Istria alla fine del conflitto del secondo conflitto mondiale e questa volta vede Trieste protagonista di tutte le vicende Trieste che alla fine è tornata italiana siamo nel 1954 ma tutte le sue vicende tra la Jugoslavia e l'Italia con poi l'intermezzo degli alleati viene ricordata e viene riproposta in questo incontro entrambi gli incontri sono dedicati in modo particolare agli studenti perché gli studenti hanno compiuto nei percorsi laboratoriali che sono stati organizzati all'interno delle proprie scuole proprio hanno ripercorso un diciamo così un tema che riguarda questi argomenti ed ora passiamo alla politica perché c'è un grosso colpo di scena un grosso colpo di scena a Fano pensate azione abbandona il centro-sinistra e passa ai progressisti azione che ha portato con sé ultimamente dei rappresentanti che sono fondamentali per il centro-sinistra vedi il sindaco Massimo Seri e vedi i consiglieri comunali Carboni e altri e altri che hanno passato sono passati lo ricordiamo prima era anche Gian Piero Pelini e poi sono stati altri che sono passati appunto ad azione e questo passaggio poi verso Ribella verso Movimento 5 Stelle verso la Fano dei Quartieri insomma verso altri partiti che si sono dissociati dal centro-sinistra indebolisce molto i partiti che sono ora al governo i quali si trovano senza i loro più significativi rappresentanti insomma rimane praticamente poco più del partito democratico azione abbandona il centro-sinistra sconfessato all'iniziativa del sindaco Marchegiani aderisce ai progressisti se è rispiazzato non si è riunito alcun organismo di partito veramente questa situazione è un po' è un po' lunare perché tutto quanto sembra sia avvenuto senza che gli stessi componenti del partito che operano a che opera a Fano siano stati a conoscenza di questa decisione e quindi adesso bisognerà vedere che cosa accadrà ed ora noi in attesa che si sappia che cosa accadrà passiamo alla cronaca camione si ribalta resta ferito il conducente è avvenuto all'interno della cava Penserini una cava d'argilla che si trova tra i comuni di Fano e Cartoceto l'incidente ha coinvolto un quarantenne che è stato portato a Torrette di Ancona e qui vediamo una scena di quanto è avvenuto a Fossombrone si è parlato molto animatamente della discarica discarica gestione troppo onerosa ma cinque sindaci si sono dissociati si è parlato di questo argomento nella sala consigliare di Fossombrone giovedì sera dove l'impresa sociale articolo 32 e il comitato a difesa del territorio hanno organizzato un incontro pubblico ebbene si è esaminato il progetto di finanza dell'azienda Feronia per la copertura e la gestione post-mortem della discarica di Carrafaneto ebbene di tutto quanto si è detto però si sono dissociati cinque sindaci coinvolti nella vicenda sono Massimo Berloni di Fossombrone Osvaldo Peragaggia di Montefercino Marco Marchetti di Sant'Ippolito Pietro Briganti di Colle al Metauro e c'era anche Giuseppe Paolini che oltre a essere presidente della provincia è anche sindaco di Isola del Piano che non ha partecipato all'incontro pubblico a differenza dei loro colleghi di Torre Roveresche come Antonio Sebastianelli e di Mondavio Mirko Zenobi che sono stati presenti a questo incontro ma non sono intervenuti insomma gli stessi sindaci che cosa hanno fatto in sostanza hanno sottoscritto le loro perplessità riferendo che gli uffici comunali sono perfettamente all'altezza di trattare di valutare il progetto di valutare di esprimere il loro parere mentre c'è invece chi disconosce questo compito e questa competenza oltre alla professionalità un percorso storico da riscoprire è un percorso storico che ha delineato dipinto possiamo dire raffigurato proprio con i termini esatti Agra uno dei pittori diciamo così più ancorati al nostro territorio Agra è un pittore che sa interpretare le radici rurali le radici storiche del nostro paesaggio Agra ha dedicato al compianto geologo Balvelli i luoghi della battaglia del Metauro e ha fatto questo bellissimo dipinto lungo lungo tanti tanti metri che riguarda un po' le fasi cruciali della battaglia del Metauro a cui il geologo Balvelli aveva dedicato tanta passione tanta parte della sua vita passiamo a Cantiano a Cantiano perché c'è stata la visita di Ellie Schlein che rilancia la richiesta del sindaco Acquaroli si svegli per dare questi soldi necessari per la ricostruzione di un paese che è stato sommesso dalle acque da Gubbio a Cantiano pochi chilometri 20 minuti di strada la Schlein è venuta appunto nella località marchigiana e ha incontrato il sindaco Piccini e qui lo vediamo con alle spalle anche il consigliere regionale Mangialardi è stata accolta anche dagli amministratori di Cagliu Frontone Pergola e Serra Santabondio e quindi la segretaria nazionale del partito democratico ha rivolto un pressante invito ad Acquaroli perché insomma si accelerino tutte le pratiche necessarie perché poi questi contributi promessi vengano effettivamente dati a Mondolfo si è fatto un consultivo dell'attività della polizia locale siamo durante la festa di San Sebastiano abbiamo detto in questa situazione in questa occasione si fa il bilancio ebbene un bilancio considerevole multe a Mondolfo in un anno aumentate del 43% questo vuol dire che da una parte i cittadini sono stati meno ligi all'osservanza delle regole dall'altra invece i vigili urbani hanno compiuto più severamente il loro dovere in occasione della celebrazione appunto della festa l'amministrazione comunale ha presentato i dati sulle attività svolte nel 2023 e nel 2023 sono state elevate 2.589 sanzioni mentre nel 2022 erano state 1.485 con un incremento del 42,6% per un importo complessivo di 183 mila euro insomma sono soldi che poi verranno impiegati per migliorare la viabilità del comune passiamo a Senigallia Summer Jambori data in sospeso la regione confermi il contributo gli organizzatori certezze sul finanziamento triennale gli albergatori piovano richieste al buio e finquanto non si ha la certezza dei contributi non si fissano le date per il Jambori che è la più grande manifestazione di Senigallia per il prossimo anno e qui insomma c'è un esame della situazione vediamo anche le pagine pesaresi pubblicate dal Corriere Adriatico e ovviamente non possiamo non parlare del giorno memorabile che comincerà sta per cominciare proprio tra breve poi vedremo anche un nostro ampliamento a questa notizia capitale dei ci siamo ci siamo e ovviamente sono diverse le pagine pubblicate a questa giornata che sarà una giornata memorabile pensate che tra poco alle 8 ci sarà l'apertura dei cancelli della Viti Frigo Arena dove poi interverrà anche il presidente Mattarella e chi poi leggerà il Corriere Adriatico ma anche il resto del Carlino vedrà tutti gli appuntamenti della giornata fino alle 10 sarà consentito l'accesso ma ci vorranno ovviamente un documento di identità obbligatorio per entrare nel 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 Viti Frigo Arena e poi prima c'è anche la inaugurazione del teatro Giovanni Santi a Vallefoglia il placet del capo dello Stato per il nuovo Auditorium Santi e vediamo ora il resto del Carlino sulla pagina di Fano l'apertura è dedicata al blitz di azione che è passato tra i progressisti e i marchegiani si così subodora si ventila probabile candidato sindaco della scelta tenuti all'oscuro sindaco il quale dice no comment al momento ma ovviamente vedrà che cosa poi farà che come agirà sia il sindaco che gli altri consiglieri ora la squadra conta un totale di sette gruppi intanto nel centrodestra si fa un altro sondaggio un sondaggio sui concorrenti e Sfilippi e Ser Filippi sfida tutti Ser Filippi che è un po' il leader più probabile che per diventare candidato unico di tutto il centrodestra ora sfida ma vuole ovviamente anche lui sapere cosa ne pensano gli elettori comunque sembra che sia un sondaggio alcuni considerano pleonastico ma insomma le sorprese abbiamo visto che cosa è accaduto con azione non mancano mai passiamo rapidamente alle altre notizie Wider mano d'opera peso d'oro parte il braccio di ferro con i terzisti c'è una avvertenza sindacale per la quale l'amministratore delegato Fabio Fraternali taglia corto dice noi non siamo una mucca da mungere e ieri è stato presentato anche il Baccalà Fest una iniziativa di carattere gastronomico organizzata dai viandanti dei sapori che si svolgerà dal primo febbraio fino al 30 marzo in una ventina di ristoranti del nostro territorio sia della provincia di Pesaro che di fuori provincia dove si servirà questo piatto molto molto buono che risa che insomma è ancorato alla tradizione contadina appunto del nostro territorio e poi anche il resto del Carlino parla del giorno della memoria donne deportate il focus è l'argomento appunto del 23 febbraio prossimo quando ricorrerà il giorno della memoria ieri funerali di Pucci di Giancarlo Pucci l'abbraccio dell'affano dell'arte e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa ma state ancora con noi perché abbiamo un collegamento diretto con Marco Lonigro che vediamo sullo schermo con alle spalle la Vitifrigo Arena che sarà il luogo di un giorno come abbiamo detto memorabile Marco che cosa sta accadendo siamo appena alle prime luci dell'alba non vedo ancora animazione ma presto lì si riempirà di gente immagino sì buongiorno Massimo è il giorno della cerimonia inaugurale qui alla Vitifrigo Arena per la capitale della cultura 2024 capitale della cultura 2024 che sarà la città di Pesaro hai detto bene in questo momento siamo veramente in pochi qui all'esterno del Palasport è una giornata veramente molto importante con un programma davvero ricco si partirà tra pochissimo con la cerimonia inaugurale con la presenza del presidente Sergio Mattarella che pensate prima di arrivare qui al Palasport farà tappa a Vallefoglia per l'inaugurazione della cinema teatro auditorium per la musica Giovanni Santi e poi appunto ci raggiungerà qui alla Vitifrigo Arena per la cerimonia inaugurale il tutto inizierà alle ore 11 il presentatore di eccezione sarà Paolo Bonolis il programma poi si estenderà anche nel pomeriggio perché ci sarà tanta musica dedicata ovviamente ai giovani e non solo si parte appunto alle 16 con il concerto di Max Gazze e poi si ballerà dopo Max Gazze con l'orchestra di Mirko Casadei e poi una grandissima seconda serata con la festa il concerto di Rosa Chemical e poi il DJ set dedicato ai giovani un DJ set che andrà avanti fino a notte fonda dunque un programma davvero molto importante curato nei minimi dettagli e questa mattina a poche ore dall'inizio della cerimonia abbiamo intervistato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sentiamo cerimonia cerimonia impegnativa perché la prima volta che si fa in Italia una cerimonia inaugurale così popolare con 8.000 persone prenotate con tante regole per la sicurezza da seguire quindi davvero una macchina organizzativa molto complessa però siamo contentissimi perché Mattarella riempie il palasport il vitri frigorino come una rock star ed è la dimostrazione che c'è tanta voglia di identificarsi non solo nel presente della Repubblica ma anche è anche una grande giornata di orgoglio nazionale e locale attraverso la cultura come elemento di bellezza e di sviluppo futuro per i nostri territori quindi siamo molto contenti siamo molto emozionati ma adesso ci siamo e parte finalmente questo anno magico per Pesaro ma per tutta la regione Marche Si è parlato di cerimonia popolare per quale motivo? Perché pensiamo che se avessimo fatto la cerimonia a teatro avremmo avuto una capienza di 7-800 persone sarebbero entrate soltanto le autorità e poco più e quindi la popolazione non avrebbe potuto vivere da protagonista l'inaugurazione e in più non solo parteciperanno tra poco all'inaugurazione ma saranno protagonisti perché uno degli spettacoli che verrà realizzato all'inaugurazione vedrà proprio i partecipanti gli spettatori protagonisti dello spettacolo stesso quindi è una grande cartolina che invieremo di una città intera di un territorio intero protagonista di questo anno magico il sindaco Ricci e non solo perché questa mattina ha parlato anche l'assessore alla bellezza e anche vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini tanta emozione anche per lui allora ascoltiamolo insieme Lei è assessore alla bellezza quanto sarà bella oggi Pesaro? Pesaro è sempre bella chiaramente quando la devi fare vedere ad altri sei ancora più orgoglioso anche di quelle cose che magari a volte non ti convincono le tramuti in positivo c'è tanto da raccontare c'è tanto del lavoro di questo tempo ma c'è anche di quello che vorremmo fare in avanti e credo che essere in 8000 darà l'idea anche di quanti protagonisti diffusi avremo di questa di questa annata straordinaria quindi anche di quanto sia un lavoro non di pochi ma insomma di un'intera realtà provinciale regionale che vuole fare bella figura Allora grande attenzione per l'arrivo del presidente Sergio Mattarella che ricordiamo appunto farà prima una tappa a Vallefoglia per la presentazione del nuovo auditorium e poi ci raggiungerà qui al Palasport di Pesaro in questi minuti è iniziata la bonifica nella struttura alle nostre spalle e vi ricordiamo che per accedere all'inaugurazione è necessario presentarsi qui al Palasport muniti di biglietto e con il documento di identità all'interno del Palasport fanno sapere gli organizzatori è severamente vietato introdurre zaini borracce bottiglie e oggetti in vetro altre info generali saranno 8000 gli spettatori circa 2000 invece gli studenti e pensate 200 giornalisti accreditati insomma una giornata veramente speciale per la città di Pesaro tra poco alle ore 8 ci sarà l'apertura dei cancelli e per coloro che non potranno essere presenti qui al Palasport sarà disponibile seguire la diretta direttamente su Fano TV a partire dalle ore 11 è tutto dignano studio riprendiamo riprendiamo la linea quindi vedremo come come seguire questa giornata in tutti i particolari ricordiamo anche che dall'undi prossimo sarà Vallefoglia a essere il primo comune che parteciperà a tutte le iniziative di Pesaro capitale nazionale della cultura e quindi le iniziative poi proseguiranno per tutto l'anno grazie a Marco ci risentriamo poi nel corso della giornata e noi saremo presenti anche a Vallefoglia oltre che nella Vitifrigo Arena grazie per l'ascolto e ora possiamo concludere la nostra rassegna stampa a più tardi grazie a tutti